Buon giovedì 2 dicembre. Come ogni giovedì vi ricordo la scuola alle 18.30 in sede online. E' il tema di oggi che ci porterà verso il seminario del 12 di dicembre, nel quale approfondiremo la figura di Vladimir Rudoni, la sua opera, il suo pensiero, la sua prospettiva. Dunque il seminario di oggi toccherà il tema della diagnosi di disagio spirituale. L'affermazione doliniana che a mio parere diede un contributo significativo al rovesciamento della prospettiva nel campo della salute mentale, ma non solo, nel campo generale della salute, intesa in tutta la sua complessità, nella sua multidimensionalità, sia che si tratti di disturbi e di sintomi che noi rubrichiamo nell'ambito della psichiatria, sia che si tratti di questioni sanitarie che tradizionalmente collochiamo nell'ambito della medicina e della chirurgia. Ebbene, questo rapporto innovativo nei confronti delle nostre interpretazioni genealogiche di ciò che ci accade, perché stiamo male. Per quale ragione una persona a un certo punto della propria esistenza sembra volerla dissipare in un gioco perverso del suo comportamento nei confronti delle gratificazioni e del piacere? Scommettere, sapendo di perdere, ma vivere intensamente la passione e la tensione che è generatrice di scuotimento esistenziale. Quella dimensione che evidentemente ti è venuta meno, perché senza tensione è molto difficile immaginare una vita che sia capace di un processo evolutivo. Quando ci chiudiamo in noi stessi siamo destinati alla stagnazione, al crepuscolo, a vivere l'esistenza nella dimensione della delusione e della impossibilità di procedere oltre. Ho ricordato in questi giorni gli attacchi di panico che caratterizzano in maniera significativa emblematica la condizione esistenziale del tempo moderno, contemporaneo, che da decenni continua a perseverare intorno alla destabilizzazione dell'umore, la ricerca di fonti capaci di scuotere quell'umore e allo stesso tempo rassegnato a vivere nella malinconia e nella tristezza. È anche vero che molto spesso la malinconia e la tristezza genera l'opera d'arte, ma sono fatti del tutto straordinari, estemporanei, non accadono tutti. In realtà poi la persona che vivere la dimensione depressiva e crepuscolare alberga in sé sia una vita insoddisfatta sia una grande rabbia inespressa, che si traduce poi anche in una sintomatologia somatica. Ebbene, porre mano alla diagnosi, cioè alla conoscenza e ai meccanismi attraverso i quali cerchiamo di intravedere quali sono i fattori generativi di quella condizione, significa porci nell'ambito inevitabile della complessità. Nonostante noi siamo forgiati alla semplificazione, ai nessi di causalità diretta e lineare. C'è una cosa e da qualcos'altro è stata generata. Difficilmente riusciamo a pensare che quella emergenza, nel senso di emergere di un oggetto, di una cosa, di uno stato d'animo, quella emergenza è sì effetto ma anche causa di una condizione che alberga in sé una circolarità, una causalità circolare, nella quale è molto difficile discriminare causa e effetto, perché entrambe le condizioni sono effetto e causa. Vi faccio un esempio molto semplice. Se noi andiamo a esplorare il DNA di una persona affetta da un disturbo grave del comportamento, magari indicato come sindrome di dipendenza alcolica, è molto probabile che possiamo leggere qualcosa di anomalo del codice che contiene informazioni relative alla vita stessa. Ma attenzione perché noi fotografiamo il DNA in quel momento quando già tutto è accaduto. Non abbiamo possibilità di accesso a ciò che era prima. Come si è evoluto nel corso del tempo? A quali fattori ambientali è stato sottoposto? Cioè noi ne diamo una interpretazione genetica, ma non siamo capaci di leggere l'epigenetica che è altrettanto seria quanto la genetica, anzi ne rappresenta una delle parti fondamentali. Non si può fare un'interpretazione genetica senza conoscere l'epigenetica, cioè qual è la modulazione che è stata determinata nel corso della storia della persona sul codice che sovraintende i meccanismi di base della nostra biologia. E pertanto nel soggetto affetto da sindrome di dipendenza alcolica è molto probabile che troverete delle anomalie che si discostano da ciò che accade nella media della popolazione, quella che noi definiamo arbitrariamente normale. La stessa cosa può essere applicata a quella categoria diagnostica che definiamo schizofrenia o psicosi o l'autismo, oppure una sindrome depressiva grave, magari resistente ai farmaci. Poi scopriamo anche che nella familiarità, così si dice, cioè nella storia familiare di quella persona ci sono stati altri episodi di depressione grave, di schizofrenia, di psicosi o di sindrome di dipendenza alcolica. Allora ci rassicuriamo perché quella persona evidentemente appartiene a un ramo genealogico che non ci riguarda, che è sostanzialmente una devianza rispetto alla media della popolazione, quindi una categoria definita fragile e debole. Questo è il modo di procedere, di una semplificazione che non ci mette in contatto con la multidimensionalità della sofferenza umana, perché ognuno di noi, se allarga l'albero genealogico e lo estende cronologicamente, troverà che nella sua storia complessa si troveranno episodi che, pur non essendo presenti nella sua sintomatologia, riguardano la sintomatologia dell'altro e pertanto scopriamo che tutto ciò che riguarda la sintomatologia psichiatrica è qualcosa che riguarda in termini di distribuzione nella popolazione condizioni che riguardano tutti e che riguardano in particolare la cultura generale. Per cui fare la diagnosi di disagio spirituale, cioè quella difficoltà ad accettare se stessi nelle condizioni dati, che non è un invito alla rassegnazione, è tutt'altro. È il punto di partenza rispetto al quale si pone mano a un sistema di cura molto complesso che riguarda i fattori strettamente personali, biologici, magari anche di contenimento temporaneo, farmacologico, a volte anche con un periodo di sospensione, di alleggerimento della vita stessa in un luogo confortevole nel quale ci si sottrae temporaneamente alle grandi stimolazioni che vengono dell'ambiente, ma deve essere tutto all'insegna della estemporaneità, perché poi i tempi dell'epigenetica non sono i tempi della brevità, ma sono i tempi del lungo periodo. E dopodiché una volta che abbiamo accettato la nostra condizione, non la coartiamo dentro a una rabbia inconfessata, ma che ogni tanto esplode, incominciamo un percorso che implica un dialogo, una parola condivisa con l'altro, in quella che noi chiamiamo la cura dell'anima, impropriamente definita psicoterapia. Vedete, il termine psicoterapia è fuorviante, perché al di là della modalità espressiva di questo termine ci riporta inevitabilmente una forma di medicalizzazione, di semplificazione. Non erano le intenzioni di coloro i quali hanno messo mano a una metodologia complessa come l'analisi, non erano le loro intenzioni di ridurre la relazione con la parola a un atto prescrittivo medico, tutt'altro, anzi privano una, pur in un contesto culturale positivista, nella quale faceva da padrona l'ideologia positivista, nonostante questo aprono la complessità e aprono soprattutto la dimensione culturale. Se leggete con attenzione l'opera di Freud, progressivamente ci porta alle dimensioni culturali, il disagio della civiltà, il carteggio con Einstein sulla guerra, totem e tabù, e molto altro naturalmente, che rappresenta l'evoluzione del pensiero di Freud e ci proietta inevitabilmente alla dimensione culturale. E poi l'opera di Jung che relativamente a ciò che è inconsapevole ci riporta all'inconscio collettivo, cioè alla dimensione culturale, sottesa, archetipica, cioè che ha un suo tratto evolutivo, viene da un passato non recentissimo ma neanche così remoto, qualche migliaio di anni fa, qualche decina magari di migliaia di anni fa, nel quale, in un periodo remoto nel quale il sapiens prende consapevolezza di se stesso e quindi è una storia recente rispetto alla storia della vita su questo pianeta. E qui si gioca una interpretazione che si presenta fin da subito multidimensionale, o l'inconscio lacaniano, che si struttura come linguaggio, come parola. Ecco, tutto questo rappresenta le basi insieme al complesso pensiero sistemico che apre prospettive straordinarie sulla complessità, tutto questo rappresenta il terreno fertile dentro il quale Udoli propone, i club degli alcolisti in trattamento, che sono un organismo vivente, semplice, delicato e complesso allo stesso tempo, che va riletto in termini di multidimensionalità della sofferenza umana e di superamento delle forme di cura tradizionali prescrittive, ma che non sono un ambito di non cura, tutt'altro. Sono cura molto complessa che implica in sé molti livelli di intervento, educativo, culturale, interpersonale, comprende in sé anche quello che noi, ripeto, arbitrariamente abbiamo letto come psicoterapia, ma che è fondamentale, implica saperi professionali e saperi esperienziali, perché se i saperi professionali e soggettivi, ogni professionista deve fare i conti con se stesso, l'esempio dell'alcol è straordinario in questo, se io mi voglio occupare di problematiche alcol correlati, qualcuno richiama di alcolisti, come faccio a escludere per la presupposizione che io, siccome sono un professionista, non sono alcolista, che è una scemenza grande come una casa, come faccio a non mettere in discussione il mio comportamento nei confronti del bere, superando qualsiasi presunzione che si diventa potere e saggenza, esercitato sugli altri, per cui il campo esperienziale del club è scienza autentica, non c'è scienza senza esperienza, è inimmaginabile, non c'è un'astrazione teorica, non ci sono discorsi teoretici che non nascono dalla lettura della vita esperienziale del giorno dopo giorno, pertanto qualsiasi professionista che si voglia cimentare con questa prospettiva deve necessariamente diventare membro di club, il servitore insegnante non è semplicemente un facilitatore estraneo del mondo del club, è a tutti gli effetti un membro di club e come tale deve vivere l'esperienza del club, non con una posizione di superiorità presunta, tutt'altro, è una persona che si impegna, per quanto tempo, per tutta la vita, a condividere un percorso evolutivo e trasformativo nel quale si incontrano tante persone che a loro volta molto spesso anche se ne vanno o prendono altre strade, questa è la ragione per cui il club è bene che si divide, perché non si fissi nella dimensione di un gruppo, ma vive intensamente l'esperienza comunitaria che è sempre evolutiva, ecco di questo oggi cercheremo di parlare in un tempo che è caratterizzato da una grande semplificazione e anche da una grande supponenza da parte di quelli che penso si autodefiniscano degli intellettuali o dei professionisti dei diversi ambiti, in particolare dell'informazione, i quali hanno deciso che relativamente a questa crisi sanitaria il popolo non deve essere messo a conoscenza dei tanti dubbi che la scienza ha nei confronti di questa crisi sanitaria, perché il popolo non capisce. Ecco io credo che queste persone siano soltanto dei supponenti presuntuosi, arroganti, ne abbiamo avuto un esempio anche ieri sera alla trasmissione della Gruber, nella quale i soliti giornalisti, conformisti e borghesi riprendono aspramente chiunque voglia sollevare un dubbio relativamente ai tanti aspetti di questa crisi sanitaria. La lettura dei dati, l'efficacia dei vaccini, qualcuno ha anche sottolineato come la medicina da sempre alberga in sé il dubbio, fa parte della sua stessa essenza, non è luogo della verità assoluta. La medicina è una pratica, non è neanche una scienza, ed è una pratica che si espone all'esperienza, perché è solo attraverso l'esperienza che puoi imparare delle strade, che poi attraverso esperienze successive puoi anche modificare, le cure cambiano nel corso del tempo. E questo è l'essenza stessa della consapevolezza umana dei propri limiti. Ebbene i giornalisti, quelli che amano, sono liberali democratici, vagamente di sinistra, icone però purtroppo per gran parte della sinistra o radical chic o borghese. Questi personaggi scrivono libri, sono intelligenti, sono eruditi, sanno parlare bene, sanno argomentare, hanno una buona memoria dei fatti, ma li selezionano in maniera conforme ai loro interessi. Ebbene che cosa temono in questa crisi sanitaria? Evidentemente quella svolta necessaria, culturale, economica e politica che oggi non è più, non è più possibile posticipare, va agita profondamente, non dobbiamo avere paura di andare a votare, perché è necessaria una svolta, non possiamo trattenere l'evolvere della cultura e della vita. Ebbene questi giornalisti che amano la libertà di stampa però si fanno portatori di un diritto sacrosanto di censurare il dubbio. Ecco, questa è la forma di conservazione più inaccettabile, che tra l'altro gli spiega spazi infiniti, dissemina autostrade lungo le quali si apre non la possibilità del dubbio, ma della manipolazione nei confronti dell'angoscia che è generata dalla coartazione del dubbio legittimo. Se io soffro quel dubbio che mi nasce dall'evidenza, possiamo pensare che la popolazione è scema a prescindere e solo gli intellettuali sono intelligenti. Siamo dotati, entrambi intellettuali o non intellettuali, della stessa potenzialità cognitiva. C'è qualcuno che è più intelligente degli altri, c'è qualcuno che ha coltivato e ha avuto la possibilità, le risorse, le opportunità di coltivare l'intelligenza. Poi, per carità, ci sono anche i geni, ma sono merce rara, non so, vanno certo a fare i talk show in televisione. I geni appartengono a una categoria particolare che in questo momento non c'è il tempo di approfondire. però l'ordinarietà della vita quotidiana ci sono gli eruditi e quelli che non hanno potuto acculturarsi. Ebbene, se lo ricordino questi giornalisti, censori, moralisti, piccoli borghesi, ricchi e saccenti, internalizionalisti quando vogliono loro, globalisti perché nella globalizzazione hanno trovato fonte inesoribile di arricchimento. Se lo ricordino che il popolo non è stupido, che la gente non è stupida, sa cogliere a buona memoria delle contraddizioni che anche la scienza offre. E le contraddizioni la scienza le offre quando si trasforma in dogma, quando la scienza è autentica, è vera, è umile, è attenta, ascolta, parla con il linguaggio del dubbio. E il linguaggio del dubbio è il solo capace di generare prudenza, consapevolezza, accettazione dei limiti e della fragilità. Impone strategie di convivenza improntate alla prudenza, quello che oggi è estremamente necessario fare intorno a questa crisi sanitaria, nel cuore di questa crisi sanitaria, ma che è necessario fare anche intorno a altri argomenti che riguardano la tutela e la promozione della salute anche in campo alcologico. Buona giornata a tutti.